La Guardia di Finanza di Parma ha eseguito un decreto di sequestro preventivo sul richiesta della Procura della Repubblica Locale nei confronti di una persona fisica già condannata per associazione di tipo mafioso, in quanto ritenuto affiliato alla cosca di Indrangheta, Vrenna Corrigliano Bonaventura. Il provvedimento ha interessato una somma di denaro e beni per oltre 170 mila euro, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma. L'attuale normativa antimafia impone alle persone condannate con sentenza definitiva per reati di particolare gravità, l'obbligo di comunicare tutte le variazioni nella composizione del patrimonio, che riguardano elementi di valore non inferiore a 10 mila euro. Le indagini finanziarie delle Fiamme Gialle hanno permesso di ricostruire, mediante l'analisi di conti correnti e carte prepagate in uso all'indagato, ingenti flussi finanziari in entrata nel periodo compreso dal 2017 al 2021. L'indagato ha omesso di comunicare tali flussi al Nucleo di Pulizia Economico Finanziaria di Parma, competente in ragione della sua residenza in violazione della normativa antimafia. Le ulteriori investigazioni dei finanzieri di Parma, svolte allo scopo di ricostruire il reale patrimonio dell'indagato, hanno consentito di ipotizzare che lo stesso, pur risultando lavoratore dipendente a tempo determinato, sia il reale amministratore di una società di Parma, titolare di un'attività di bar dell'oltre torrente, solo formalmente intestata alla moglie. Pertanto il provvedimento di sequestro preventivo eseguito nella scorsa serata ha riguardato, oltre ai conti correnti e ai rapporti finanziari personali dell'indagato, anche la totalità delle quote della società e i beni strumentali all'esercizio dell'attività di bar.